Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale di Daniel Emo Quest'oggi sono tornato con il gameplay in MotoGP 2020 Solamente che per quest'oggi direi che non so bene di cosa uscirà Perché corriamo in MotoE con Tommaso Marconi Non so se cambi qualcosa dalla MotoGP Lo scopriamo adesso Corriamo a Burnout, pista che mi piace, giusto per facilitarmi un po' Perché non fa brugna? Ah, perché è elettrico E la gara è di due giri Se farò qualche wind Ah ma è monomarcia Sono molto monomarcia Ma... Che cavolo è? Madonna Madonna Se non è di vero che Pistello si sta morendo Che cos'è? Quanto vuoi fare? Ciccio, sveglia Madonna Madonna Assembramento, assembramento E non lo tricò di non lo conosce nessuno Madonna mia, Madonna mia Ma... Che vuoi fare questi qua? Cos'è c'è? Ho sei tappi nelle orecchie Zaccone Zaccone mi ha tamponato l'interno Dai raga No ma davvero È insostenibile Sei il tappo di un serbatoio Madonna Levati tu Granado Mi sono fatti prendere Qui c'è la motopatocca Dai Velocità massima della mia moto 10 km dai Ecco Ho fatto il gameplay Abbronò sempre una verità storica Ecco Grande Granado Comunque il pilota personalizzato Questa curva l'ho fatta uguale Madonna Mi sono dormissima di fermi nel piano Guarda 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 Senti di canto Certo se magari mi fai la curva Stesso problema con il diviso Mi ha avuto così dentro questo Madonna Eh e qua Nel primo del tesserito mi sembri Già arriva la moto Almeno qua Madonna Madonna E' insostenibile Al limite Spegnete l'audio raga Non sentirete cosa dico Però Stassi di lì Almeno non permetterebbe Sfinibili Madonna E' insostenibile Ma io mi denuncio Quelli della moto E Per molestire Nella quarta pubblica Vai a far più Fa abbastanza schifo La questione La marcia Perché E' insostenibile Nella grippe Non avrebbe poterci Delle fronte Ma direi Madonna ma quante sono indietro Se il cento ti vale Deve accogli adesso Pensare di avermi attaccati Al colore Invece no Sono indietro Fanno schifo Sto qua La velocità media è la moto E' 350 La velocità media è la moto E' 120 Cioè guarda solamente per Tutte le prime sono 200 Adesso E' così che si è già A 105 Bella la frenata Bella la staccata No Un tubo Però sono dentro Ok Incredibile Quattro le wind Di cui due per colpa di Contenamenti forse Questo è uscito a vedere Abbastanza bene Forse perché sono solo Due giri Madonna Giuro che ti tappo Il tubo di scarico Ok Tommaso Marconi Per cui io la fai star muta Ti amo ad un altramp Ti faccio mettere dentro La bomba nucleare atomica Facciamo una bella rata Di campi Come Valentino Rossi Ad Onington Vedete i miei gameplay Se non capirete nulla Di quello che sto dicendo E' appunto Di Valentino Rossi In questo tratto Ora sono i miei gameplay Non mi sono 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 Basta Raristica Bé C'era quasi Vai ragazzi Dove sono La vittoria La gara più seria Del mondo Due giri Con una moto E incredibile Facciamo due giri In moto E Ma come fa Dante l'inserito? Non dovrebbe bloccarsi e morire E vai Ho solo 6 secondi di vantaggio In un giro Mi sono dato 6 secondi Di vantaggio Ma come è saluto in sella? Vabbè raga Vediamo Spero che il video vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate il like Iscrivetevi al canale E se volete sul giro Un nuovo gameplay Sia modalità storica Sia modalità normale Per cui MotoGP Red Bull Lucky's Cup Moto3 Moto2 MotoGP MotoE Basterà inserire Poi sotto nei commenti Sotto il video Il pilota circuto Le condizioni di metodo Le moto di giro Io raga Vi lascio il finale Senta che ci sia E alla prossima E alla prossima E alla prossima Sottotitoli